Si tratta di un progetto condiviso che ha un obiettivo importante, capire lo stato di salute degli adolescenti. Questo periodo lunghissimo di pandemia ha lasciato in molti giovani ferite, che non si vedono ma che possono aggravarsi con il tempo. Così è partito da Pieve di Soligo questo progetto, condiviso con la conferenza dei sindaci, che ha coinvolto dirigenti scolastici, istituti superiori, giovani dai 14 ai 19 anni, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti. Abbiamo predisposto una sorta di questionario, però mutuato e tarato proprio, diciamo, sulla emergenza Covid, perché tanti parlano di adolescenti. È vero che, come dire, l'osservatore ingenuo molte volte ci azzecca, ma tante volte, insomma, alcune situazioni possono anche essere fuorvianti. Quindi ci siamo detti, oltre a ciò che vediamo concretamente nei nostri servizi, cerchiamo di recuperare dei dati un po' più scientifici. Abbiamo già raccolto oltre mille questionari compilati dai ragazzi e 600 dai genitori. Abbiamo voluto vedere anche, fare una sorta di comparazione, questo è ciò che i ragazzi ci dicono, questo è ciò che i genitori vedono e vivono, mettiamoli insieme. Dopodiché, da tutto ciò che in un qualche modo tireremo fuori, andremo a discuterlo assieme ai ragazzi e ai genitori e ovviamente ai dirigenti scolastici. Un progetto che in futuro sarà allargato a tutta la marca. Una volta ottenuto il risultato sarà fondamentale fare rete con le scuole, le famiglie, le parrocchie, l'azienda sanitaria, insomma tutta la comunità. Dobbiamo fare politiche sanitarie mirate sui dati, su ciò che veramente emerge e far presto anche.